bravo fisioterapia e preparazione sport specifica made in move.it officine santafede flanges made in italy officinesantafede.com torniamo in cronaca a capogna siamo quasi al limite dell'aria capogna guarda occhi negli occhi di fersone salva una calcia la parata di fiori che non la tiene danna arriva con lucio lesti intanto corna deve rattoppare una conclusione portata dal numero sette per quanto riguarda l'effetto sorpresa sorpresa pardon lisa e fascia di destra palla dentro danna va a terra niente brocchi la supera in questo momento la linea mediana la calcio lecco segato fascia di sinistra palla panoramica verso la destra seconda palla che poi finisce a corna mentre in area apre sulla destra lisa il lato corto dell'aria cross in mezzo capogna ha sbagliato un gol incredibile da forse meno di un metro dalla porta di fiori sulla palla perfetta di giancarlo voglia con guarco riesce a controllare bene il pallone a mandarlo verso il centro dove c'è moleri apertura sulla fascia di sinistra due contro uno segato edanna segato prova la conclusione la parata di fiori moleri moleri in fuorigioco però sulla seconda palla sarà cambiaso col mancino a rientrare a battere questo calcio d'angolo palla che spiove finisce verso il centro piacentini conclude da un metro trova il corpo di magonara in forza al calcio d'ecco 1912 situazione importante della gara da seguire con attenzione cambiaso verso il centro safaritas blocca alto sopra la sua testa con le mani cento e salato all'indietro verso Merli Sala che viene anticipato palla rischiosa Muzzi Muzzi sulla destra cambiasi in area chiusura di Magonara ancora cambiasi Muzzi chiuso poi da Pedro Acquilento che ha rispetto di farsi del male da solo distanze della passaggia e nemmeno le tempistiche per servire Gabriel Incorren che sta in una sovrapposizione con cesso rimessa al salero prova a ripartire palla a terra si torna indietro verso Garbini col destro lungo verso corne piacentini riesce a passare piacentini gol da Savona ha battuto il corne mille Alexandros e Safaritas corne abbattuto in velocità da piacentini guarda il corne piacentini che poi colga all'esterno mancino ha trovato il diagonale e ha sorpassato la figura del bortiere si va in lobba sul numero 4 del Savona a portura panoramica sulla destra per Capogna Capogna riesce a saltare il suo marcatore palla verso Segato che trova l'area del gol ma fuori gol Piede destro sull'altro lato sinistra uscire la chiama Garbini largo su un secondo palo palla che arriva tesa piacentini Malgrati anticipa Safaritas palla che rimane lì Safaritas Malgrati ancora non si capiscono pala che esce dall'area affenati mancino quasi a campanine di alleggerimento il destro al centro Malgrati svetta palla poi è riduttata dentro da Cambiaso ma troppo profonda e tra le braccia di Safaritas è recuso più del lancio lungo di Safaritas ributtata davanti da Malgrati la palla Silvestri fa buona guardia la fa scorrere Lisai finita il cross alza la testa si porta verso il centro Capogna si 1-1 venuto numero 30 parigiato Riccardo sull'ottimo cross di Lisai il pareggio della calcio d'Ecco 1912 che si riporta in vetta al campionato da fermo uno dei punti forti a squadra blu ceste Segato verso il centro ancora una volta Vittiglio Silvestro la parata molto importante di Fiori 50 secondi al termine della grande tensione al stadio baciderico andrà Nicola Segato a calciare verso il centro dell'area Segato parte si ferma riparte la batte in mezzo Draghetti di testa sopra la travessa bravo Sponsored by Centro Commerciale Le Piazze dal 1993 il primo centro commerciale di Lecco centrolepiazze.it Studio Dentistico Caponero Dottor Livio sulla bocca di tutti caponerolivio.it Fratelli Calegari pavimenti e rivestimenti l'esperienza che fa la differenza fratellicalegari.it Made in Move fisioterapia e preparazione sport specifica made in move.it Officine Santa Fede Flanges Made in Italy Officinesantafede.com